Recensione di Motorola Moto G, lo smartphone quad core che segna il ritorno di Motorola in Italia, in vendita a soli 199€ Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti alla recensione di Motorola Moto G So che l'aspettavate da tanto, purtroppo sono stato influenzato, poi ho perso la voce E ancora ora ho un po' la voce che mi ritrovo Questa è la confezione di Motorola Moto G, che avevamo già visto nell'unboxing, che avrà deluso la maggior parte di voi Che contiene qualche manuale e il cavo USB, micro USB, fine Non ci starebbe forse neanche un alimentatore in una scatola così piccola Tra questi manuali segnaliamo questo che spiega come aprire la cover Che è praticamente indispensabile, perché la cover è veramente durissima da aprire Questo è Motorola Moto G, qualche specifica tecnica, ve la elenco Ha un processore quad core Snapdragon 400, quello quad core appunto, perché esiste anche una variante dual core Da 1.2 GHz Processore grafico Adreno 305, 1 GB di RAM, disponibile da 8 e 16 GB di memoria interna Connettività HSUPA fino a 21 Mbps, Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0 Batteria 2070 mAh, schermo 4,5 pollici in risoluzione 1280x720 pixel Fotocamera da 5 megapixel Intanto vi mostro il retro Dotata di LED flash che registra video a 720p E fotocamera frontale Allora Avrete già capito come Non è presente la memoria espandibile, non è presente NFC Il LED notifica, me l'avete chiesto in tantissimi, è presente ma lampeggia solo bianco Ho provato con Lightflow ma non c'è stato niente da fare Scusate Questo è lo smartphone a schermo acceso Lo schermo è assolutamente un punto di forza È uno schermo veramente spettacolare Forse forse un pochino troppo saturi i colori ma è veramente andare un po' a cercare il pelo nel luogo Risoluzione abbiamo detto HD Colori abbastanza fedeli Alta luminosità Alta luminosità Quindi visibilità alla luce diretta del sole Ottimi angoli di visione Veramente uno schermo sorprendente Non esiste uno schermo del genere per 199€ se non il Moto G Questa è una cosa che ripeteremo più volte perché Perché il prezzo di 199€ lo pone in fascia bassa Alcune cose sono anche da fascia bassa tipo la memoria non espandibile Ma è uno smartphone che ha molte specifiche anche della fascia superiore In mano il dispositivo è abbastanza pesante almeno rispetto a quello che ci aspetteremo Ha questa forma leggermente stondata Vedete? Con invece il logo qua di Motorola appena incassato E lo speaker tra l'altro qui che però non poggia mai sul piano perché appunto la forma dello smartphone è stondata In mano lo smartphone è abbastanza pesante Però dà un'ottima sensazione di solidità Esattamente quello che ci aspetteremo da Motorola Esattamente quello che ci ricordavamo Dall'ultima volta che Motorola era in Italia con i suoi dispositivi Avrete già visto come il retro trattiene tantissimo le impronte E questa è una cosa abbastanza complicata Perché come vedete Non è facile elevare questa cosa Non basta strofinarlo un po' con un panno Quindi quello che consiglio io magari è una volta uscito Compratevi, fatevi un regalo Fatevi regalare una bella cover colorata Che sicuramente anche se dello stesso materiale farà vedere molto meno le impronte Qui abbiamo i tasti fisici Qui abbiamo il jack audio e il secondo microfono Pulito il lato sinistro E sotto la porta micro usb e il microfono Come vedete la barra di sistema Da barra qua sotto di sistema è trasparente Mentre invece non lo è la barra della notifica Notifiche che sono esattamente quelle di Jelly Bean 4.3 Perché non c'è quasi nessuna personalizzazione Dovrebbe ricevere Android KitKat già a gennaio Andiamo a vedere 4.3 Le personalizzazioni sono pochissime Comunque andiamo a fare un attimo un po' un tour del sistema per intero Ok abbiamo già The Verge Aspettiamo che magari lo ricarichi Forziamogli l'aggiornamento Scuso ancora per la mia voce ma direi che non poteva più aspettare la recensione di Moto G Sto facendo un minimo sforzo per riuscire a farla comunque ora Ok questo è lo scroll che è abbastanza buono Vi dico subito anche il pinch zoom abbastanza buono Diciamo che non è la miglior prestazione che si sia mai vista su un browser Però si comporta veramente in modo abbastanza egregio Anche perché ha comunque uno schermo HD molto ben leggibile Che questo fa tantissimo per la navigazione internet Comunque avete visto non ci sono grossissimi problemi Qualcosa in più forse quando facciamo il pinch No ma vedete ma neanche Ok Fra le altre applicazioni c'è veramente poco poco di preinstallato Vi faccio vedere assist Che in pratica programma in automatica alcune funzioni Abbiamo riunione Che permette di mandarlo silenzioso di attivare le risposte automatiche Poi abbiamo qualche opzione in più Tipo per le eccezioni E riposo più o meno la stessa cosa in un orario che noi decidiamo Le riunioni vengono capite direttamente dal calendario Ci vengono segnalate qua su nella barra di notifica Che siamo in modalità riunione E se non vogliamo con un tap ne usciamo subito È presente una terza voce Che è questa qua al volante Che permette Qui almeno la descrizione dice Ti aiuta a mantenere la concentrazione sulla guida Non sappiamo benissimo in cosa consista Perché non ci sono opzioni al riguardo Non mi pare di aver notato granché Questa settimana essendo stato malato non ho guidato molto Ammetto Molto probabilmente in base usando le api di Android 4.3 Mentre stiamo guidando Ci pensa Android a capirlo questo Mentre stiamo guidando le notifiche vengono diminuite Magari ci vengono proposte solo le telefonate O le cose più importanti Fra le altre applicazioni abbiamo Google Drive Che tra l'altro regala Ben 50 GB di spazio gratuito per due anni E questo in parte possiamo dire Che va a ovviare al problema della memoria interna Anche se io sono dell'idea Che se uno usa il cloud Non è tanto il problema della memoria interna Uno usa il cloud e fine E quindi che siano 8, 16 eccetera eccetera Non è mai un problema C'è un certo tipo di pubblico Un certo tipo di funzioni Per cui il cloud non va bene Non va ancora bene E quindi 8 GB di memoria interna Posso esserne pochi Anche perché mi pare siamo intorno ai 5,5-6 Alla prima accensione di disponibili Vi faccio vedere la fotocamera Perché Allora vi dico subito Le foto che scatta Sono abbastanza deludenti Però il software è interessante Questo è il simbolo dell'autofocus Che io ho abilitato Ho abilitato qua il tap dell'autofocus Quindi Posso mettere a fuoco Spostandolo Quindi voglio mettere a fuoco qui E poi Tappando ovunque scatto Oppure posso levarlo E ci pensa lui a mettere a fuoco Automaticamente dove crede meglio Le foto sono abbastanza scarsine Però l'interfaccia invece Secondo me è abbastanza interessante Abbiamo qua La modalità di scatto HDR automatico Attivo o disattivo Qui abbiamo il flash Qui abbiamo l'autofocus Qui abbiamo la possibilità Di mettere il rallentatore nel video E qui la possibilità Di fare foto panoramiche Scorrendo invece verso sinistra Accediamo alla galleria Fotocamera frontale E registrazione di video Semplice ma secondo me Abbastanza intuitivo E' abbastanza interessante Però Comunque Niente di che da parte Della fotocamera Assolutamente Nelle impostazioni Voglio farvi vedere Giusto una voce in più Che è stata aggiunta Che ha la voce Della batteria Eccolo qua Abbiamo questo risparmio energetico On off Non fa molto di più Non permette di essere personalizzato Però C'è E può far comodo Abbiamo poi Migrazione a Motorola Che scaricando l'applicazione Su un altro smartphone Su uno smartphone vecchio Permette di trasferire i dati Verso questo Motorola Installando la pick up su un altro smartphone Non potrete scegliere se è vecchio o nuovo Ma sarà automaticamente vecchio Quindi questo tool può essere usato solo per portare i dati Verso un Motorola Moto care In pratica c'è una piccola guida del dispositivo Oppure possiamo Chiamare automaticamente L'assistenza di Motorola Abbiamo la radio FM Abbastanza carina esteticamente Che funziona solo con le cuffie inserite Cuffie che però non sono presenti nella confezione YouTube Quick Office Play Movies Che Ho installato Guarda Voglio fare questa prova E riprodurre Matrix In HD Da Play Movies Vediamo se lo streaming ci assiste Siccome mentre lo teniamo in mano Ha vibrato perché è arrivata la notifica Anche se voi non l'avete visto Segnalo anche come la vibrazione sia molto decisa Molto Molto buona alla fine E quindi permetta di Anche digitare Correttamente Sto guardando un video Sto divagando Ma continuo visto che mi vengono in mente le cose Tastiera Quindi parlavamo di digitazione Tastiera Che è quella Android standard Ma non supporta L'inserimento con trascinamento Ho provato a cercare L'applicazione standard L'applicazione della tastiera Di Google Nel Play Store E non si trova Quindi Non potrete aggiungerla In questo modo E' una scelta un po' bizzarra Devo dire Quella di non permettere Di attivare il trascinamento Non so bene perché Si è stato fatto Il lettore musicale E' affidato a Google Play Music Quindi si sincronizza con Il cloud di Google L'audio è veramente Veramente alto Magari la qualità non è Eccelsa Comunque non arriva a distorcere Però Il volume è veramente alto E questa è una grandissima cosa Avvio Riptide GP2 Per farvi un po' vedere La potenza Pura del processore Che però A risparmiare Ovviamente sul prezzo finale Però creando un prodotto Che ha un ottimo processore Un ottimo schermo Un audio molto alto Un'ottima qualità costruttiva Insomma Non è poco Non è assolutamente poco Per 199 euro Ok avete visto Comunque gira benissimo Quindi Effetto anche una telefonata In viva voce Audio cristallino Devo dire Con il viva voce Tutto ok Direi invece Per quanto riguarda La chiamata classica Con l'auricolare Con Con la capsula auricolare qui Anche la qualità ricettiva Direi che è buona Non lo metterei Nell'albo dei migliori Del secolo Non è il motorola Storico Come magari C'è successo in passato Ma si comporta Molto molto bene Al riguardo Questo smartphone Quindi Meritare di essere acquistato Beh la risposta è sì 199 euro È un prezzo Che tra l'altro Va a distruggere il mercato Come detto Memoria non espandibile È il problema Probabilmente più grosso Che potrebbe limitare La scelta di molti Acquirenti La fotocamera In secondo piano Diciamo che Anche quella È un po' una rinuncia Non per tutti La fotocamera È una cosa importante Come magari lo è La memoria interna Stessa cosa Poi Per la connettività LTE Il led di notifica È solo bianco Questi più o meno Sono i difetti Più grandi Di questo Motorola Moto G Dopo che gli avrete Cambiato la cover Da nera Con una colorata Per questa recensione Di Motorola Moto G È tutto un saluto Da Emanuele Cisotti Per AndroidWorld.it Emanuele Cisotti Emanuele Cisotti